Sei vigoroso. Giù le mani. Non ti sembra sia giunto il momento di cercare una donna? E tu allora? E cosa c'entro io? Io credo che esistano dei momenti di desiderio, di passione, impulsi irrefrenabili, momenti di tormento in cui la tua carne si sgretola. Io penso a te, non ti prendono mai questi momenti? Certo, come no. E allora cosa fai? Vado nella legna e spacco la legna. Ah, e tu? Suono le campane. Le suoni spesso? Ciao Cirillo, ci vediamo.